La dirigenza della Juventus, secondo le informazioni, si sta già preparando nel caso in cui la soppressione di Pogba venga confermata. I due giocatori francesi piacciono alla Juventus come sostituti di Pogba, sono Coadio Cone e Abib Diarra. Tuttavia, un altro francese ha iniziato ad essere osservato dalla Juventus. Youssouf Fofana è uno dei giocatori più importanti del Monaco dal suo ingresso nel 2020. Fofana è anche un giocatore di fiducia nella nazionale francese. Nell'ultima Coppa del Mondo, ha partecipato a sei delle sette partite della Francia in Qatar. Youssouf Fofana è valutato tra 30 e 35 milioni di euro. Se la Juventus dovesse rescindere il contratto con Pogba, questo alleggerirebbe il monte stipendi. Di conseguenza, la Juventus potrebbe offrire un salario più alto a Fofana, il che potrebbe convincere il giocatore francese di 24 anni. Per ora, la Juventus sta solo monitorando il giocatore insieme agli altri profili citati. Tra Kouadio Kone, Abib Diarra e Youssouf Fofana, chi sceglieresti per una possibile sostituzione di Pogba?